sul lato destro del campo poi Citerius calcia da fuori e c'è subito il grande intervento del portiere, colpo di tacco per il proprio capitano può ricominciare il fortitudo che si sgancia sulla destra con Mastro di casa verso Pretara poi un errore davanti alle portiere, calcia e segna il raddoppio di Marco 2-0 della fortitudo Futsal Pomezia Pagliarella gioca a corto il Citerius, prova a costruire e recupera il pallone Piscic, grave errore difensivo è 3-0 Pomezia rimessa, calcia Martinelli e la mette nell'angolino 4-0 Futsal Pomezia la palla viene giocata centralmente Rumori, prova a rientrare sul destro calcia Blasi sotto la traversa e fa 5-0 per la fortitudo Futsal Pomezia centralmente prova a servire il 19 si torna con la Pomezia che si allarga sulla destra dalla parte opposta prova a calciare a porta vuota Di Marco e porta il punteggio su 6-0 se la gioca a corto poi va dentro il numero 5 resiste a un contrasto evita il portiere e insacca il 7-0 per la fortitudo Futsal Pomezia Cappello Persico sbaglia ancora una volta Persico mette dentro per Nicolai che insacca nell'angolino ritorna da Bonci che serve Cappello 1-2 riceve Cappello mette dentro il pallone stavolta sono 9 per il Pomezia in mezzo a 2 si libera della pressione degli avversari va da solo di Fabio buona la transizione mette dentro questo pallone che si perde sul fondo la porta si gira Silveri se la porta sulle destro mette dentro e segna il decimo gol c'è rumori in aria che riceve lascia la sfera Silveri che incrocia con il destro la mette all'incrocio ma non c'è più tempo perché termina le match tra Citerius San Valentino e Fortitudo Fuzzale Pomezia con la vittoria degli ospiti per 11-0 però